E poi l'ho chiamata Yuki, non perché... Yuki significa neve in giapponese, non perché nevicava ma faceva freddo e quindi ho deciso di chiamarla così e ho deciso di tenerla ed è una storia molto bella perché io abito al terzo piano, quindi è salita fino al terzo piano, quindi mi ha cercato. Quindi si è formato subito un legame molto forte. Un bellissimo legame.